Alla Camera dei Deputati ogni giorno accedono centinaia di persone che non sono né parlamentari né dipendenti della Camera dei Deputati. Alcuni di questi sono lobbisti, ovvero rappresentanti di grandi aziende che si occupano di trivellazioni petrolifere, di cemento, che si occupano di concessioni pubbliche. Queste persone, quando si discute la legge di stabilità come in questo periodo, le ritroviamo fuori alla Commissione a tirare la giacca ai parlamentari per fargli modificare questo o quell'articolo di legge ed ottenere così vantaggi per sé e per la propria azienda. Se ricordate, l'anno scorso abbiamo registrato uno di questi individui che si vantava di aver fatto modificare al PD un emendamento sulle pensioni d'oro, ovviamente a ribasso, cioè favorendo i pensionati d'oro. Da allora è iniziata una battaglia condotta da me, Riccardo Fraccaro e Claudia Mannino, nell'ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati per far sì che questa gente non entri più alla Camera se non con un regolamento serio e preciso che ci dice perché entrano, chi incontrano e qual è l'obiettivo della loro visita. Dopo un anno di lavoro abbiamo ottenuto un primo risultato. Quest'anno, durante la discussione della legge di stabilità, i lobbisti non potranno accedere alla Camera dei Deputati. È finito il mercato delle vacche che si consuma da decenni in questo palazzo a scapito dei cittadini italiani. Non è un caso che le leggi in questo paese si facciano sempre a favore di petrolieri, a favore di cementificatori, a favore di coloro che vogliono la privatizzazione dell'acqua, perché sono quelli che stanno sempre qui dentro a mercanteggiare con i parlamentari conniventi. D'ora in poi questo non sarà più possibile e viaggiamo adesso verso un regolamento degli accessi alla Camera che consenta a qualsiasi cittadino di accedere previa la comunicazione del motivo della sua visita e chi vuole incontrare. Grazie. Grazie.